Ciao a tutti i biafri, sono Gabriella, bentornati sul mio canale Oggi finalmente faccio la recensione di Lady Midnight di Cassandra Clare Questa che vedete fra le mie mani è l'edizione inglese bar americano, è uscito l'8 marzo È la nuova saga del Dark Art Devices E questo qui potete trovarlo sia su Amazon sia su Book Depository A circa 20€ in hardback come questa appunto, questa meraviglia Se volete vederla meglio c'è l'unboxing sul canale E in paperback penso su 15€ sia su Amazon che su Book Depository Forse anche un pochino meno Ma comunque questa è la meravigliosa edizione inglese e americana Dopodiché il 15 marzo è uscita Signora della Mezzanotte Appunto l'edizione italiana, 19€ Il prezzo di copertina 16€ su Amazon E' inutile dirvi che io preferisco ovviamente quella inglese e americana Però comunque c'è la runa angelica e carina come edizione Potevano farvi peggio Questo è un video in cui non farò come al solito degli spoiler Però se non avete letto le precedenti saghe potrei fare degli spoiler involontariamente Perché questo libro è ambientato 5 anni dopo Città del Fuoco Celeste Ovvero l'ultimo libro della saga di The Mortal Instruments Quindi per dirvi la trama devo comunque citare quello che in parte è accaduto in Città del Fuoco Celeste Quindi se non volete rovinarvi nulla non guardate il video Quindi per quanto riguarda la trama ci troviamo appunto ambientati a Los Angeles 5 anni dopo la grande guerra che si è avuta a New York Ma in realtà in tutti gli istituti dei Shadow Hunters in America e non solo A causa di Sebastian Morgensen che ha fatto tutto quel patatrack che sappiamo benissimo Quindi eravamo rimasti in Città del Fuoco Celeste con Emma e Julian Emma Carstairs e Julian Blackton, dodicenni Che purtroppo hanno assistito a tutte queste barbaie che ha posto in essere Sebastian E con i genitori di Emma morti Sono stati trovati appunto 5 anni prima morti con degli strani segni su tutti i corpi E buttati nell'acqua, appunto acqua marina, nell'oceano si presuppone E nel momento in cui i fratelli silenti cercavano di prendere i corpi e portarli via Si sono praticamente disintegrati, cioè polvere praticamente E il conclave ha dato la corpa a Sebastian Cioè ha semplicemente detto altre morti a causa di Sebastian Morgensen Della sua pazzia, del suo voler essere un povero folle Anche se noi tutti lo amiamo Comunque questa è la premessa 5 anni prima Emma è sconvolta perché ha visto i suoi genitori morire in questo modo atroce E ha visto Sebastian, ha visto tutto l'orrore che ha portato nell'istituto di Los Angeles Di New York, eccetera eccetera Quindi adesso Emma e Julian hanno 17 anni Sono più grandi e sono molto meglio di come me li aspettavo Perché comunque non mi ero legata a loro ovviamente in Città del Fuoco Celeste Perché comunque li conosciamo in pochi capitoli Non sono stati molto approfonditi E poi appunto avevano solo 12 anni Quindi comunque dei caratteri non definiti Niente di che Invece in questo libro ovviamente li ho amati Emma Carstairs appunto come il nostro amato Gem E appunto fa parte di quella meravigliosa famiglia Con la sua spada cortana che gli è stata data dal padre E una guerriera Shadowhunters determinatissima Cazzutissima E ha un senso dell'umorismo incredibile Fa battute su battute Mi ha ricordato più che Gem, Will Però E anche Jace Però è davvero un'eroina Che mi è piaciuta tantissimo Devo dire che rispetto a Tessa e a Clary Preferisco Emma 10.000 volte Perché fra loro, fra le donne Shadowhunters Preferivo Isabel E quindi adesso preferisco decisamente Emma Fra loro tre Però Isabel è sempre il mio primo amore Comunque Dopodiché abbiamo dall'altra parte La famiglia dei Blackthorn Ovvero Julian, il più grande Che anche lui ha 17 anni Che è il parabatai di Emma Emma appunto Poiché era senza famiglia Aveva solo un modo per restare con i Blackthorn Ovvero legarsi a uno di loro Appunto sono diventati parabatai E c'è la novella comunque Nel cronaca dell'Accademia Shadowhunters No, solo le novelle dell'Accademia Shadowhunters Dove appunto si vede questa cerimonia Fra Emma e Julian Che è accaduta qualche anno prima Ed è bellissima Perché appunto si sono legati come parabatai E appunto hanno un'amicizia davvero forte Julian io l'ho adorato Così come mi sono praticamente innamorata dei Blackthorn Prima di leggere questo libro Avevo paura Di non ricordare assolutamente i loro nomi Quanti anni avessero Perché sono davvero tantissimi Julian appunto è il più grande 17 anni Dopodiché abbiamo i due gemelli Tiberius e Livi Livia Che hanno 15 anni E io amo soprattutto Tai, Tiberius Perché Niente Lo amo e basta Cioè è un personaggio Secondo me meraviglioso Forse è il più bello dei Blackthorn Da punto di vista sentimentale Interiore eccetera eccetera Poi abbiamo Drusilla Che ha se non sbaglio 13 anni Ed è comunque Una piccolina Tanto carina Un po' paffutella E dolcissima anche lei E il più piccolo Tavi Octavian Di 7-8 anni Non ricordo bene E comunque appunto Anche se Questi Soprattutto Drusilla e Tavi Hanno pochi anni Rispetto comunque a tutti gli altri Sono più piccoli Avranno un ruolo molto importante Nella storia Davvero tutti Dei Blackthorn Fanno parte anche Mark e Helen Che hanno lo stesso padre Dei Blackthorn Ma madre diversa Era una fata E morta Dandogli alla luce E sappiamo che Helen Purtroppo è stata esiliata Su un'isola di Wrangles Non ricordo male Con la sua sposa Alaina Lynn Non so mai Come si pronuncia quel nome E Mark invece È stato portato via Dalle fate Ha partecipato Alla caccia selvaggia Insomma Ogni anno Si viene da sapere Che Julian Cerca di fare in modo Che Helen Non sia più esiliata Che Mark Ritorni Che gli Shadowhunters Si attivino Per farlo tornare da loro Ma ovviamente Il conclave Non fa mai Cavolo di niente E quindi Mark Si trova ancora Con le fate Con la caccia selvaggia Per quanto riguarda La trama Ci troviamo a Los Angeles E Emma Fin da subito Ci viene presentata Perché sta andando A cercare delle informazioni Perché Soprattutto negli ultimi mesi Stanno avendo Delle morti strane Nel mondo Comunque Dei Shadowhunters Soprattutto anche Delle fate E quindi Sta cercando informazioni Che in realtà Non potrebbe cercare Al mercato delle ombre Da un personaggio strano Johnny Rook Che vende informazioni Non è un personaggio Molto Carino Diciamo che È alquanto odiabile Però Le dà delle informazioni Perché appunto Ci sono queste morti Che sono molto simili A quelle dei genitori di Emma Cioè Sembrano appunto Ricoperti Tutte queste scritte strane Di cui non si capisce la lingua Sembrano prima Essere stati Messi nell'oceano E poi bruciati E non si capisce Assolutamente niente Soprattutto non si capisce Perché Sono corpi Soprattutto di fate Ed è per questo Che appunto Emma non potrebbe Trovare Cercare informazioni E trovarle Perché Dalla pace fredda Dopo che si è avuto Appunto Tutta la guerra con Sebastian Le fate che si sono Alleate con Sebastian Gli accordi Dei Shadowhunters Non vanno più A proteggere le fate Perché Loro ovviamente Sono alleate con Sebastian Il conclave Siccome è molto intelligente Come al solito Ha deciso di Fare tutta l'erba un fascio E quindi non proteggere più le fate Non si deve assolutamente Prendere in considerazione Di proteggerle E avere anche solo una chiacchierata Con loro Niente I Shadowhunters Non se ne devono fregare Niente Ovviamente Emma Da testarda È cazzutissima E determinata Come io la amo Se ne frega Altamente Come alla fine Hanno fatto anche Jace e Cleary All'epoca E tutti I Shadowhunters Adolescenti Fanno così E appunto Continua a cercare informazioni E all'inizio del libro Vediamo che viene aiutata Da Cristina Che è questa ragazza Che si trova per un anno All'istituto di Los Angeles Perché in realtà Se non sbaglio Di Città del Messico È appunto tipo in Erasmus Sta facendo un anno all'estero Vabbè È un personaggio Che mi è piaciuto tantissimo Perché Ha legato moltissimo Con Emma E mi piace comunque Che ci sia un rapporto Di amicizia Fra ragazze Ed è molto 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 carino Quindi inizialmente Emma viene aiutata da Cristina Perché i Blackthorn All'inizio di questo libro Si trovano in Inghilterra La loro patria Allora alla fine Sono originari inglesi A trovare una vecchia zia E quindi Emma Si trova tra virgolette Da sola con Cristina E il suo ragazzo Cameron Che è Poverino Bad time to be a lama Dico solo questo E ovviamente Dopo pochi capitoli Torneranno i Blackthorn E ci vengono presentati Io fin dal primo momento Davvero li ho amati Io amo Julian Amo Tai Soprattutto l'ho già detto Livi Dru e Tavi Io li adoro Davvero tutti Quindi Emma ovviamente Dice subito a Julian Quello che sta accadendo E cercano comunque Insieme di trovare Delle soluzioni Per andare a non farsi Scoprire delle conclave Per avere anche Delle informazioni Ci saranno in mezzo Ovviamente anche Delle fate E cosa particolare L'ultima cosa che vi dico Per quanto riguarda la trama Perché non voglio andare oltre E che a un certo punto All'istituto di Los Angeles Si presentano Tre fate Due col volto scoperto Fra cui uno dei due E una fata Che Emma aveva già incontrato Nel cercare informazioni Non avevano avuto Un bell'incontro E Kiran Che è Kiran o Chieran Non so come si pronuncia Che è una fate importante Un principe Della corte Ansili Perché qui ci viene presentata La corte Ansili Dove vi è il re Non la corte Sili Che abbiamo già conosciuto Con la regina E una fata Dal volto coperto Non si capisce Che cosa vogliono Vanno in una sale In cui possono andare Alle fate Ovvero il santuario Dove appunto Possono camminare fate Vampiri Ruppi e mannari E chiede ad Arthur Che è lo zio Dei Blackthorn Diciamo Purtroppo Non con una mente Molto sana Un accordo Voi ci aiutate A scoprire Chi è Questo maledetto Che uccide Le fate Eccetera eccetera Tutti questi omicidi E noi vi ridiamo Lui Chi è la fata Col cappuccio Mark Blackthorn Che Io Boh Io veramente Avevo già intuito Quando ho visto Chi è questo Col cappuccio E ovviamente Ho pensato Ma sarà Mark Però poi ho detto Ma no Invece sì Cassandra Mi ha fregato ancora E quindi è Mark Blackthorn Ovviamente I Blackthorn Accettano Non devono dire niente Al conclave Ovviamente Perché non si potrebbe Assolutamente Avere un accordo Con le fate E quindi Si riprendono Mark E loro Appunto In tre settimane Devono cercare Di capire Chi c'è dietro Tutti questi omicidi Ovviamente Emma è contentissima Perché finalmente Ha un modo Per scoprire Cosa è accaduto I genitori Perché lei e Julia Ma così come tutti I Blackthorn Non credono al conclave Quando dice È stato Sebastian Quindi Questa è più o meno La trama iniziale E a me È piaciuto un casino Davvero Fin dal principio Non c'è stato un momento In cui mi sono annoiata Ovviamente Lo stile La scrittura Di Cassandra Cretti Cattura Non riesci a Staccarti dalle pagine Io ho dovuto iniziare Questo libro Il giorno dopo l'esame Quindi No bugia Il pomeriggio stesso Del giorno dell'esame Ovvero il 16 Il giorno dopo Crescito in italiano E ci ho messo Quattro giorni Per finirlo Perché comunque Non ve l'ho detto Sono 668 pagine Quindi comunque Un bel mattoncino E appunto La trama Mi è piaciuta tantissimo Ci sono colpi di scena Su colpi di scena Come sempre Doppi giochi E mi è piaciuto molto Il fatto che comunque Anche in questo libro E soprattutto in questo libro È molto molto Visto come importante Il legame dei parabatai Perché comunque Emma e Julian Sì sono parabatai Ovviamente si vede Fin dal principio Che c'è qualcosa di più Fra i due E io amo Julian Per quanto è dolce Quanto è artista Anche dentro E lo amo davvero Così come mi è piaciuto Molto anche Mark Cristina E tutti gli altri Ce ne sono così tanti Poi di personaggi Come al solito Che incontriamo qui dentro Che mi sono innamorata Praticamente di tutti loro La fine ovviamente Non mi sarei mai aspettata Un colpo di scena del genere Non avrei mai detto Che sarebbe finito così E Cassandra come al solito Mi ha davvero catturato Sorpreso E io devo aspettare un anno Dobbiamo aspettare un anno Adesso per capire come continua Perché ovviamente Il libro poteva finire Con un finale Punto No Un cliffhanger assurdo Come al solito E quindi cliffhanger Assurdi 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 Finché non avremo il libro finale Ovvero fra due anni E va bene Inoltre in questa edizione qui Così come in quella italiana Che vi ho mostrato prima C'è un capitolo inedito Di circa una trentina di pagine Dove ritroviamo i nostri Meravigliosi personaggi Di The Mortal Instruments E non posso dirvi Ovviamente niente Ma Fills e lacrime a non finire E Rincontriamo non solo loro Ma anche i personaggi Di The Infernal Devices E soprattutto Alla fine ragazzi C'è un colpo di scena Su un personaggio Che tra l'altro È importante Ma non è per niente presente Nel libro Che Cioè io veramente Cassandra Clare È solo da farle una statua E basta Quindi Veramente Tutto il libro È un colpo di scena Soprattutto sul rapporto Fra Emma e Julian I parabatai Si scopre tantissimo Sul legame dei parabatai Sugli omicidi Su come sono morti I genitori di Emma Su tutta la famiglia Dei Blackthorn E sul loro carattere Sui distregoni Su tutto Le fate Tantissimo sulle fate Però Questo colpo di scena finale Che io veramente Non l'avrei mai detto Cassandra mi ha steso Mi ha steso completamente Quindi io l'amo Sempre di più Il libro mi è piaciuto tantissimo Mi ero ripromessa in realtà Di leggerlo con calma Ma non ce l'ho fatta Perché come ho detto Cassandra Cattura davvero Sempre E Non ci posso fare niente E Spero Non lo so Che nel frattempo Avremo altro Perché io ho bisogno Di leggere di questi personaggi E anche quali di The Mortal Instruments Soprattutto Perché comunque Si mi sono piaciuti tantissimo I Blackthorn Ma io sono troppo legata Sentimentalmente A quali di The Mortal Instruments Soprattutto i Malek E quindi Comunque È un libro Che non avevo L'uso assolutamente Le mie aspettative Anzi Le ha superate E io amo Cassandra Clare E quindi Se non avete ancora letto Questo libro Leggetelo Perché ne vale Davvero la pena Quindi fatemi sapere Se anche voi l'avete letto Cosa ne pensate Quale dei Blackthorn Vi piace di più E tutto il resto E altrimenti Se dovete ancora leggerlo Spero di avervi invogliato Sempre se Avete letto comunque Le due saghe precedenti Le cronache di Magnus Bain E l'Accademia Dei Shadowhunters Dei novelle Perché qui ci sono Tantissimi riferimenti E altrimenti Vi fareste degli spoiler Incredibili Spero di aver detto tutto In realtà volevo dire Molto di più Ma mi sono accorta Che non potevo Perché avrei fatto Spoiler su spoiler Su spoiler E non volevo Condizionarvi troppo Soprattutto sui personaggi Che vabbè Io ho amato tutti Però Che dobbiamo fare In questo libro Tra l'altro non l'ho detto Ma ci sono mille mila ship Cioè io ship Tipo Emma con tutti Julian con tutti Mark con tutti E' incredibile Questa cosa Ma solo Cassandra Clare Può farmi pensare Queste cose Questi scleri E questi disagi Comunque Spero che la recensione Mi sia piaciuta Io vi invito Come al solito A iscrivervi al canale E a mettere mi piace al video Giù ci sono tutti i social network Tra cui la pagina facebook Del canale Dove ogni tanto Trovate dei miei scleri vari E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao